Sineco e Costantini sono partiti, è partito o meglio il servizio tamponi con lo screening di massa nella città di Giulianova. Nel primo giorno sono stati registrati circa 1300 tamponi con soli due positivi. Sì, abbiamo avuto una buona risposta nella prima giornata, ci aspettiamo però naturalmente più affluenza. L'obiettivo è centrare dei numeri un po' più alti, quindi come vedete non c'è fila, potete venire. Ci sono medici competenti che vi stanno aspettando, volontari che non smetteremo mai di ringraziare per il servizio che stanno svolgendo alla città. Ecco Sindaco, le postazioni fisse sono tre e sono ovviamente quelle più grandi oltre alla postazione mobile che agirà nella giornata di domenica. Sì, abbiamo nove linee attive sul territorio comunale con due drive-in molto grandi, uno nei pressi dell'Anfas, l'altro la Madonna Nello Splendore. E poi abbiamo due strutture al chiuso, sono quattro le strutture in questo momento attive. Questa dove siamo noi, la sala polivalente del quartiere dell'Annunziata e al Palacastrum. Quindi due strutture al chiuso per chi appunto vuole venire a piedi e due strutture drive-in. Tutte con il massimo rispetto, in sicurezza, vedo anche qualcuno che non vuole tamponarsi perché ha paura, venite a tamponarvi. Se avete paura di entrare nelle strutture al chiuso andate nei drive-in, però fate i tamponi. Mi raccomando, è importante avere uno screening, una fotografia con uno screening ben preciso di quelli che sono i dati sulla popolazione. Sindaco, obiettivo di tamponi a domenica sera. Qual è realmente quello che spera sia l'amministrazione comunale che il sindaco Costantino? Se lo chiedi a me, io le direi che ne vorrei fare 10.000. So che è un numero incredibilmente alto, proviamo a farne almeno 5.000. Però ci dobbiamo riuscire perché capite bene che abbiamo speso fior di soldi nei mesi precedenti per fare i tamponi nelle strutture private. Adesso che abbiamo la forza di poter dare i tamponi a tutti, non vedo per quale motivo la gente non si debba venire a tamponare.